Ciao, sono Andrea Mangoni, un biologo italiano e lavoro a Venezia. Nelle ultime settimane a causa del lockdown dovuto al coronavirus, il traffico acqueo nella città lagunare si è ridotto fortemente. Ho potuto così filmare una medusa che, molto vicino a piazza San Marco, stava nuotando pochi centimetri sotto la superficie dell'acqua. I sedimenti presenti nell'acqua si depositassero sul fondo e ciò ha portato a una incredibile trasparenza dell'acqua in alcuni canali veneziani e ora è possibile in alcuni casi osservare la vita marina direttamente nel centro della città.